problemi di vista perché non ti affidi a vedo meglio vieni a trovarci il nostro staff competente e preparato ti aiuterà a scegliere le tue nuove lenti inoltre il controllo della vista è gratis sì finalmente ci sono riuscito grazie meno meglio sarà ma che cazzo ma che stai facendo sono le tre di notte vattene via sto facendo un rito satanico torna a letto cosa e da quando in qua noi adoriamo il diavolo noi crediamo in gesù cristo nostro signore lo so ma le candele di madame clotilde sono così buone candele aromatiche madame clotilde adorerà il diavolo pur di accenderne una romeo vieni qui c'è la pappa non credo che verrà ci sono due motivi per cui puoi scegliere gillago il primo è perché altamente alcolico e con due o tre bicchieri scioglierai quell'inibizione che da sempre ti porti appresso così potrai finalmente conoscere qualcuno e sistemarti così da salvarti da un'esistenza solitaria nella quale mangi tutte le sere la stessa pasta col pesto precotta guardando l'ennesima serie tv che parla di ragazzini che si innamorano mentre ti chiedi cosa sia andato storto con te e cosa abbiano di speciale gli altri e ti addormenterai così con la speranza che un attacco di cuore più rapido possibile posso sollevarti da questo tormento cosciente del fatto che nessuno se ne accorgerà tranne forse i vicini quando chiameranno i vigili del fuoco per il cattivo odore nel condominio il secondo motivo è per il suo gusto inconfondibile